A me non piace raccontare cosa vuole dire una canzone, perché l'idea è che la musica vada semplicemente ascoltata, sia con le orecchie, ma soprattutto con il cuore. La musica vada semplicemente ascoltata, sia con le orecchie, ma soprattutto con il cuore. La musica vada semplicemente ascoltata, sia con le orecchie, ma soprattutto con il cuore. La musica vada semplicemente ascoltata, sia con le orecchie, ma soprattutto con il cuore. La musica vada semplicemente ascoltata, sia con le orecchie, ma soprattutto con il cuore. La musica vada semplicemente ascoltata, sia con le orecchie, ma soprattutto con il cuore. La musica vada semplicemente ascoltata, sia con le orecchie, ma soprattutto con il cuore. La musica vada semplicemente ascoltata, sia con le orecchie, ma soprattutto con il cuore. La musica vada semplicemente ascoltata, sia con le orecchie, ma soprattutto con il cuore. La musica vada semplicemente ascoltata, sia con le orecchie, ma soprattutto con il cuore. La musica vada semplicemente ascoltata, sia con le orecchie, ma soprattutto con il cuore. La musica vada semplicemente ascoltata, sia con le orecchie, ma soprattutto con il cuore. La musica vada semplicemente ascoltata, sia con le orecchie, ma soprattutto con il cuore. E cantare, esplorare questa vita, come un vento che ha in vita, vorrei provare, vorrei provare a volare. Grazie, grazie, grazie. Emozionandoci, grazie ancora, ciao. Ringraziamolo ancora una volta per essere stato con noi questa sera, Luigi Giorgio cantautore, ricordiamolo che scrive lui queste canzoni, è davvero una grandissima sensibilità.